Sarà la multiservice a gestire i parcheggi a pagamento di Praia Mare. Unica ditta a partecipare al terzo bando indetto dal Comune Altotirrenico, l'azienda di Palma Campania sarà responsabile delle strisce blu cittadine per i prossimi due anni. 50.500 euro l'offerta presentata al Comune con un aumento dell'1% sulla base d'asta. Capitale che sarà necessario per l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale dei parchimetri. A carico della cooperativa sociale il funzionamento del dispositivo di vendita tramite il coordinamento con la polizia locale. I ticket avranno un valore massimo di 80 centesimi l'ora e 40 per la mezz'ora di sosta. Inoltre sarà la multiservice a controllare che il nuovo parking system funzioni correttamente e a vigilare contro possibili atti vandalici. Negli uffici della Polizia Municipale di Praia Mare fanno sapere che la cooperativa è interessata a partire al più presto con la nuova gestione. Il tempo è di smartire le pratiche burocratiche, presentare i documenti necessari e ottenere l'un laosta per partire con i lavori. Speriamo che entro una decina di giorni riusciremo ad assolvere tutti i procedimenti necessari, fanno sapere dalla multiservices. Nel momento in cui avremo il via libera dovremo riuscire a installare il tutto entro pochi giorni, con personale già operante nella nostra cooperativa. In caso di necessità formeremo altre unità operative in loco. Strisce blu che rimarranno attive per tutto l'anno, sia per i fuorisede sia per i praiesi. Prematuro dire se per i residenti ci saranno sconti o card. Durante il periodo invernale la fascia oraria in cui sarà attivo il servizio di parcheggio a pagamento inizia alle 8 per terminare a mezzanotte, dalle 8 fino alle 3 del mattino successivo durante la stagione estiva. Le strade interessate sono il cuore del centro cittadino per un totale di 230 posti auto. L'asse che costeggia il Viale della Libertà è costituito da Via Turati, Via Giugno e Via Longo, fino all'incorso con Via Dante Alighieri. Compresi nel bando anche i parcheggi adiacenti Piazza dei Caduti e Via della Stazione, con la sola esclusione del piazzale antistante lo scalo ferroviario. Tutte queste zone inoltre dovranno essere totalmente sgombra di auto dalle 7 alle 8 del mattino, per consentire la pulizia completa delle strade. Grazie a tutti.